ciao a tutti oggi ho deciso di continuare il mio decluttering creativo e questa volta voglio andare a ordinare questa cassettiera qui c'è un po di tutto quindi andiamo a vedere cosa tenere o cosa buttare allora qui c'è questo nastrino che in realtà non dovrebbe neanche stare qui infatti per adesso ordino e poi sistemo tutto nella mia postazione creativa allora c'è questo nastrino qui che poi lo vedete un colore molto accesso ma è semplicemente un fucsia questo lo tengo poi abbiamo questo qui adesso non mi viene il nome fa i buchini a forma di farfalla e questo naturalmente lo tengo poi filo in acciaio anche questo lo tengo il filo wire anche questo lo tengo assolutamente i bottoni non li ho mai usati ma li tengo perché possono sempre servire i tubicini che all'interno si mettono delle perline questi li ho usati anni fa non li userò più quindi penso di metterli in vendita ok è volato tutto colla a caldo colorata tengo poi qui c'è una foto mia con simona che devo incorniciare il decotape delle bimbi anche questo tengo poi qui cosa c'è ok è una lettera che mi ha fatto il mio fidanzato quindi la tengo questo serve per realizzare i bracciali rigidi quindi questo lo tengo e poi qui abbiamo questo se lo utilizzavo come base per per realizzare i bigliettini fatti a mano per le bomboniere però non me ne faccio niente quindi lo butto anche perché adesso faccio i bigliettini diversamente quindi questo lo butto questi penso di mettere in vendita perché non non li uso questi poi questo sempre delle bimbi tengo qui abbiamo questi stickers che sono comunque all'inizio però comunque adesso sono carini per decorare dei pacchettini quindi li tengo questi questi sono storici non so se qualcuno di voi si ricorda i ciccetti e questi orologini ma questi li avevo da quando ero piccola quindi non li tolgo assolutamente li conservo come ricordo oddio quanti erano belli ne avevo tantissimi quindi conservo assolutamente qui ci sono sempre delle pepline di quando ero piccola bellissimi li adoro poi qui abbiamo delle gommine che in realtà ho messo in vendita in teoria non dovrebbero neanche stare qui dentro ma poi li sposterò ho perso la testa poverino eccolo qui portachiavi che ho realizzato io quindi è messo in vendita in realtà non dovrebbe neanche stare qui poi qui ho degli stickers riciclati mi aveva mandato qualcuno in uno dei pacchettini e io li ho ripresi sono carinissimi quindi li tengo poi qui abbiamo delle micro perline di queste ne usate tantissime per quei braccietti che vi ho fatto vedere prima adesso non penso che li userò più quindi penso di metterli in vendita questa cosa lì questi questi qui trasparenti anche questo penso di mettere in vendita questi ho aiuto per do pezzi questi in realtà li tengo perché li ho usati tantissimo per fare tipo la grassa nei biscotti che avevo realizzato in panno lenti quindi direi che sono ottimi per realizzare biscottini queste qui sono delle micro porticine di una nave utilizzate per il mio fidanzato che gli servivano per la sua cioè sta costruendo una nave quindi siccome gli mancavano queste qui le porticine io ho realizzato lo stampo e gli ho fatto i resini e poi lì magari se le dipinge e quindi questi non sono miei poi qui abbiamo un ciondolo realizzato da Simona tengo assolutamente aiuto letterina di Simona anche questo lo tengo naturalmente e qui c'è un angioletto realizzato con le micro perline e questo è messo in vendita quindi non dovrebbe stare qui terzo cassetto allora qui c'è di tutto c'è un pietro di mare che li utilizzo sia per la resina che al momento li ho utilizzati solo per la resina queste sono delle pietre che ho raccolto io e quindi conservo anche se dovrei cambiare la bustina perché non si guida più qui credo che ci siano altre pietre di mare non so perché le ho messe qui eccole qui anche questo ho utilizzato con la resina questi qui che avevo utilizzato per fare lo stampo ma comunque non mi servono più e quindi li metto in vendita mini libri questi li possono sempre essere utili quindi li tengo qui ho queste bocciettine che neanche mi ricordavo di avere bene quindi li tengo assolutamente poi queste qui sono delle piume qui ne abbiamo un'altra e questi li avevo utilizzati con la resina quindi li tengo qui abbiamo dei celuliantini e questi li tengo questa è una garanzia della trapano di precisione quindi naturalmente la tengo questo cuoricino in legno non so bene cosa facci però comunque lo conservo un giorno mi verrà qualche idea questa farfalla qui che mi ha regalato simona questa farfalla qui che mi ha regalato simona non ho ancora avuto l'ispirazione giusta tengo e poi ci ragionerò insomma zucchero finto tengo poi qui ho altri mini libri un momento tengo questo qui è un fiore secco cioè non secco finto questo prima o poi lo userò con la resina quindi tengo anche questo ramoscelli sempre per la resina che non ricordavo neanche di avere quindi tengo prima o poi li userò questi non lo so non ne ho la più palida idea magari questi rosa li tengo questi due li tolgo perché non mi ispirano più di tanto sì penso proprio di sì ho tante copertine di mini libri adesive neanche mi ricordo quali sono i titoli sono i titoli un po' pecchiotti questi con la spark twilight non lo so questi nel forse una piuma anche questa è da usare con la resina questo sondro mi è stato regalato da simona e quindi tengo altro mini libri che avevo realizzato io di animali fantastici e tengo questa foglia che più che altro la utilizzo per fare la texture piantina finta sempre per la resina quindi al momento tengo scondolino regalato da simona insieme alla letterina che tengo tra piuma altri mini libri che al momento tengo altre pietre di mare che sono cadute insieme a delle conchiglie questi tengo tutto qui sono caduti glitter va bene sono un caos non poterlo di sistemare tutta la mia stanza creativa vi do una smossa se no questo video non finisce più decorazioni varie Angelina non è Angelina Fima è decorazione per l'anelarte le ho guardate questa l'ho utilizzata con la resina mi è rimasta ancora queste le utilizzerò sempre come decorazioni quindi tengo la mia foto insieme al mio cagnolino che assolutamente tengo qui abbiamo degli stickers si che vabbè possono essere carine per decorare i pacchettini quindi tengo ultimi due cassettini qua c'è il caos più assoluto vabbè qui la mezzo parte credo di tenere tutto naturalmente poi non li metto qui ma li metterò più sistemati allora anche se sono alcuni distrutti che al momento li tengo perché devo comprare quelli nuovi quindi siccome mi possono servire li tengo vediamo queste qui tutti quei palpasta questo vedete è distrutto però comunque lo tengo perché mi può sempre servire altri qui questi che comunque sono nuovi qui ho gli stampi in silicone per fare il cupcake sono questi tre naturalmente tengo base farfalla che tengo questo è un biscottino che ho utilizzato una sola volta non so se venderlo o al momento tenerlo magari però lo tengo poi ci ragiono quando sistemerò tutto tengo tutto questa è la pallina di alluminio che utilizzo per fare la texture dei biscotti e quindi tengo ultimo cassettino anche qui c'è il caos più totale devo provare una nuova sistemazione a questi stampi allora questi sono tutti gli stampi che utilizzo col Fimo quindi biscottino cuoricino con la scritta love ho questi tre questi penso di no questo non penso di tenerlo non mi piace quindi questo lo metto in vendita la base la tengo stampo dei piedini biscottino pan di stelle questi li tengo tutti il gelatino che tengo questo non mi piace più e un cake roll lo metto in vendita cuoricino a forma di macaron stra pieno di glitter sporchissimo lo devo pulire corsetto questo lo tengo altri stampini stampo del biscotto ring originale questo è più piccolino non è fatto benissimo però vabbè lo tengo questo è un macaron oddio sono tutti oleosi devo pulirli assolutamente non è un macaron è un oreo quindi lo tengo questo può essere utile per mescolare la resina UV quindi lo tengo ho quest'altro qui questa è una texture che ho fatto io col Fimo per fare l'effetto gelato e quindi lo tengo merendina pan di stelle che tengo assolutamente questo non mi piace più non l'ho uso da anni quindi penso di metterlo in vendita o meno pan di zenzero che tengo e questa è la merendina dei mooncake che utilizzo sempre come texture e anche questo tengo quindi anche questa seconda parte del decluttering finisce qui spero che questo video vi sia piaciuto io vi mando un grosso baso e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao